Buongiorno Kiki, come stai? State bravi, non state così d'accordo? Mi prometti di non litigare con tua sorella? Dile di venire qui. Dile di venire qui, le dico la stessa cosa. In ammella. Mi raccomando, sei la brava. Ok? D'accordo? Va bene. Adesso noi andiamo. Ok. Bye! Bye, Johnny! Ciao! Ma D? D? La prima D. La prima D? Ce ne sono due. Gira, 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 vieni. 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 Ok. Abbassa il finestrino di qui. Adesso marcia indietro. Gira dall'altra parte le ruote. Comincio a... Vai, vai. Vai. Alla bocca. Ecco. Vai, poi ti dico io devo fermarti. Allora raddrizza un po' il volante dall'altra parte. Così, un pochino. va bene. Ok. Dai, marcia indietro. Dai! Ecco, dai, vai. Gira un po' il volante a destra. No, non ho ancora finito. Gira un po' il volante a destra. e continua ad andare indietro. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po'. Ancora un po' Ok, basta così. Ferma. Adesso... Metti il cambio in folle. Ok. Premi quel pedale qui, fino in fondo, ma proprio in fondo, in fondo, in fondo. Dai. Ancora. Ok, basta. Lascia andare il freno. Ok. E metti il cambio in P. Dei premere il freno. Ok. Adesso smorzi. Spegli. Devo caricare il tagliaerba.